Poracci complimenti a tutti per esservi sbizzarriti con le risposte del quizettone Stavolta non l'adoro vinta io che pur essendo stato il più veloce non ha scritto il titolo completo Quindi il vincitore di oggi è Alessandro Mentre la risposta più creativa direi che è quella di Roberto Che ci ricorda che il leggenda Arceus all'inizio sembrava la beta di Kubivore Brava Game Freak ma banda alle ciance Altro giro, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro L'unico format di Youtube Italia dove si parla di videogiochi E il primo in assoluto ad aver raggiunto l'episodio numero 100 Poro 100, puntata spettacolare e ricchissima E neanche a farla apposta si torna a parlare di alcuni rumor succosissimi Perché dopo l'aggiornamento 13.0.0 si sono aperte le porte dell'inferno E giù di speculazioni sul Nintendo 64, su dei nuovi Joy-Con e chi più ne ha ne metta E poi non dimentichiamoci che c'è un altro compleanno importante Quello del Gamecube, che porta con sé numerose iniziative Quindi prima di iniziare festeggiamo insieme questi traguardi poracci Mettete like, iscrivetevi al canale se siete nuovi E se invece siete dei fan di vecchia data vi metto la prova Come si chiamava il canale prima di Poro Michele? Questa non è semplice Grazie di cuore soprattutto a chi ha deciso di finanziare direttamente la realizzazione di questi video Tramite l'abbonamento al Poreon, il Patreon dei Poracci Stasera ci sarà una live esclusiva per i poracci DOC Se siete interessati trovate il link alla pagina Patreon qui sotto in descrizione Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo Nel mentre che aspettiamo Shin Megami Tensei V Atlus è pronta a sganciare una nuova bomba Con il supporto ovviamente di Sega Non si sa ancora nulla sull'entità del progetto Ma a quanto pare il primo ottobre Durante la live stream che si terrà all'interno del Tokyo Game Show 2021 Atlus svelerà un nuovo JRPG A quanto pare però non si tratterà di un nuovo capitolo della serie Persona Né qualcosa relativo all'universo di Shin Megami Tensei I rumor puntano tutti verso un nuovo episodio di Sakura Wars Serie popolarissima in Giappone Che celebra il suo 25esimo anniversario L'appuntamento è fissato per il primo ottobre alle ore 14 italiane Wild at Heart riceve finalmente una data di uscita ufficiale per Nintendo Switch Questo particolarissimo action-adventure è sostanzialmente il Pikmin 4 Che Nintendo non tirerà mai fuori E fa molto piacere vederlo approdare su console ibrida Dal 16 novembre 2021 sarà disponibile Sia in versione digitale che in copia fisica Ed è uno di quei titoli che fosse in voi terrei d'occhio Proprio in questi giorni lo avevo avviato su Game Pass E Wild at Heart mi ha catturato sin da subito Ma quasi quasi lo metto in pausa per ricominciarlo su Switch Ma chiudiamo questa prima sezione con una nota un po' amara Ci sono altri due importanti rinvii per quanto riguarda le produzioni AAA Dopo una serie di rumor è arrivata la conferma ufficiale da parte di EA Il nuovo Battlefield sarà rimandato di un paio di settimane Dal 22 ottobre al 19 novembre A causa di complicazioni non previste Dettate da lavorare in remoto Un ritardo non così grave a differenza dell'attesissimo Dying Light 2 Che subisce l'ennesimo clamoroso ritardo Slittando di ben due mesi dal 7 dicembre al 4 febbraio 2022 Rinvii che fanno male Ma se c'è una cosa che ci ha insegnato Cyberpunk 2077 È che è meglio arrivare sugli scaffali con un prodotto finito Che con una produzione afflitta da varie problematiche Più che altro il 2022 In particolare febbraio Come ci ricorda Annapurna Inizia a prospettarsi come un anno clamoroso per il gaming Non trovate? E passiamo alle notizie del giorno Qui mentre ancora si aspetta e si spera in un direct di settembre Ti prego Nintendo non fare scherzi Ok? Su dai fai la bra I rumor continuano a rimpallarsi E dopo la discussa possibile aggiunta del Game Boy al catalogo del Nintendo Switch Online Gli insider iniziano a tirare fuori il nome di un'altra storica console Il Nintendo 64 Ma ci possiamo fidare? Alp Come al solito vi invito a prendere questi rumor Come scenari ipotetici di cui discutere Non si tratta di notizie certe Ma solo di speculazioni che da appassionato Sono intriganti da esaminare e aprono a diverse ipotesi Poi si sa se c'è una compagnia imprevedibile Beh quella è Nintendo E molto spesso anche la cosa più logica e razionale Non trova posto all'interno delle sue strategie aziendali Quindi con estrema tranquillità Ora io vi parlo di questi rumor E poi ne discutiamo qua sotto nei commenti Ok? Ok A tirare in ballo il possibile arrivo del Nintendo 64 All'interno del Nintendo Switch Online Ci ha pensato Nate Day 8 All'interno del suo podcast su YouTube Vi ricorderete che si tratta dello stesso utente Che aveva fatto partire le speculazioni riguardanti il Game Boy su Switch Che avevano portato Eurogamer a confermare queste voci di corridoio E aggiungere che Nintendo stava lavorando anche su un'altra retro console Quindi Nate Day 8 ha confermato la conferma e ha rilanciato sul rilancio Chiarissimo Affermando che l'aggiunta del Game Boy sarà accompagnata da quella del Nintendo 64 La cosa interessante E forse è questa la parte più succosa di queste speculazioni È che le aggiunte porterebbero Nintendo a riconsiderare il prezzo del servizio in abbonamento Che offrendo ora ben più di 100 titoli ai suoi utenti Sarebbe da adeguare alla nuova offerta contenutistica Si parla sempre in via ipotetica di una sorta di iscrizione premium Che rincari il prezzo annuale in un range compreso tra i 25 e i 35 euro Voi li spendereste per avere accesso alla libreria Nintendo 64? Ma soprattutto quali giochi potrebbero essere inseriti in questo catalogo? Mettere Super Mario 64 sarebbe un bello smacco verso tutti quelli Che hanno acquistato la 3D All Stars l'anno scorso Mentre immagino ci siano parecchi problemi con le licenze dei titoli Rare Che costituivano però gran parte dei big del Nintendo 64 Poracci, cosa ne pensate? C'è veramente possibilità di un upgrade così sostanzioso per Nintendo Switch Online? E in caso voi lo paghereste il rincaro dettato dall'aggiunta di Nintendo 64 e Game Boy? Ma attenzione perché le novità riguardanti Nintendo Switch non finiscono di certo qui È stato infatti scoperto un brevetto che sembrerebbe puntare verso un nuovo controller per la console ibrida Ecco di cosa si tratta Sul sito della Federal Communication Commission è apparsa una nuova richiesta, application, formulata da Nintendo Cosa significa? Beh, la FCC è l'agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare qualsiasi tipo di comunicazione sul suolo nazionale Questo significa che per poter vendere legalmente un qualsiasi strumento che utilizzi una comunicazione wireless all'interno degli USA Bisogna registrarlo con uno specifico ID nel database della FCC E Nintendo ha fatto questo, come scoperto da Samus Hunter 2 su Twitter Ha registrato una nuova periferica con l'ID di BKEHAC043 Indicando nella scheda prodotto semplicemente Game Controller Analizzando l'ID possiamo ottenere importanti informazioni BKE è la sigla che rimanda a Nintendo Mentre HAC indica l'appartenenza all'ecosistema Switch Il numero progressivo differenzia le varie periferiche uscite nel corso degli anni 001 è la Switch 015 è il Joycon sinistro Il 022 è il Ringcon E così via Importante è notare che numericamente HAC042 Indica il classic controller del Super Nintendo Pensato per interfacciarsi con la libreria SNES su Switch Quindi direi che le ipotesi sono due La prima è che si tratta di una versione wireless del controller del Nintendo 64 Il mitico tridente Che andrebbe a sposarsi perfettamente con il rumor che abbiamo discusso prima La seconda è che Nintendo abbia in servo una revisione del Pro Controller Da lanciare in concomitanza con Switch OLED Così come la nuova console con schermo migliorato E la dock ridisegnata per accogliere la porta LAN Anche il comodo controller potrebbe ricevere un piccolo redesign Per ottimizzare le prestazioni Secondo voi Cosa si nasconde dietro questo HAC43? E chiudiamo poracci con una notizia che mi riempie il cuore di gioia L'annuncio di un nuovo controller per Gamecube Lunga vita al cubetto Se siete come me Tra quelli che considerano il controller del Gamecube tra i migliori di sempre Sarete parecchio felici di scoprire dell'esistenza del Blade GC Prodotto da Retro Fighters Sostanzialmente si tratta di un waveboard ridisegnato per adattarsi a un'impugnatura più standard ed ergonomica Il controller si collega con un ricevitore wireless al Gamecube Ma sfrutta un protocollo wireless standard e può essere connesso anche Switch e PC L'autonomia prevista è di 10 ore e sarà ricaricabile attraverso una porta USB-C Come si nota dalle immagini, il controller raggiunge tanto senza però tradire l'impostazione originale dei tasti Tra le feature più apprezzate c'è un D-pad nettamente più grande, un doppio tasto Z I tasti dorsali che supportano i livelli di pressione e due stick analogici ora simmetrici Il prezzo è di 40 dollari e i pre-order saranno aperti ancora per 18 giorni Io quasi quasi un pensierino ce lo faccio E voi? E questo poracci era tutto per oggi Non vi ringrazierò mai abbastanza per l'incredibile supporto che mi date ogni giorno Senza di voi non sarei mai arrivato a 100TG Poro Un traguardo che solo fino a un anno fa era praticamente impensabile Grazie di cuore e come al solito ci vediamo nei commenti Vi ricordo che stasera ci sarà la live dedicata agli abbonati Porion Nel caso voleste partecipare sapete dove trovarmi Voi fate i bravi e nerdate duro Noi ci vediamo domani per un nuovo video E io sono il Poro64, Michele Hack Ciao Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile Mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime e anche live esclusive Dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione E ricordati che Poracci si diventa 022 il rincon e rincon Con rincon Rincon Con Rincon Con Rincon